... Comunque saluto a tutti, arrivederci. Ciao, ciao Tonuccia. Ciao Esfisa, ciao Salvatore, ciao a tutti. Ciao Tonuccia, arrivederci, ciao. Ecco, abbiamo sentito la voce di Tonuccia, la salutiamo. Ah no, Salvatore, veniamo con te. Sì, stavo dicendo una canzone napoletana che ha per titolo Tu sii una cosa grande. Questa canzone la dedico alla signora Cadelano di Monserrato, a Liliana di Sinnai, Antonella di Quarto, Maria di Gianni e suo marito di Quarto, Miranda di Cagliari, a Pino, a Natale e Cellina, a signora Gina e suo figlio Cicci, e infine a Tonuccia che ha telefonato poco fa. Allora andiamo con la canzone? Siamo pronti? Pronti, sì. Oh sì, una cosa grande per me, una cosa da me fa innamorare, una cosa da si tu guarda a me, me ne moro a così guardano a te. Vorrei a sapere una cosa da te, perché quando io te guardo a così, sicure tu te sienti morì, non mo' dice e non mo' fai capimma perché, e dille una volta sola, ma segura, sicure tu s'ai detto in manna, che ti lega me fa bene. Con mio, con mio, con mio voglio bene a te, Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così, a così grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh mio voglio bene a te tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così, a così grande. A così grande, a così grande. E bravo, bravo Salvatore Solinas con questa canzone e il titolo Salvatore. Tu sei una cosa grande. Ecco, bravo. Allora andiamo subito con un'altra canzone. Allora leggiamo un'altra, mettiamo a posto il telefono, è messo bene a posto? Sì. Andiamo su, stacchiamo un attimo la... Leggiamo ancora un'altra dedica. Anche oggi, caro Sandro, vorrei dedicare un brano ai nostri genitori, a voi di Radio Stella, a Giovannina, a Maria Paola, a Marco, a signora Donietta, a Gianni Marcella, a Giovanna, a Romolo, a Maria Cusenza, a Dolores, a Dario, a Maria Teresa, a Nazareno, a signora Ida di Selargius, a Grazietta di Pirri, agli ammalati, ai carcerati e a tutti i festeggiati, a tutti i radioscoltatori, senza escludere nessuno. Grazie.